Giardin, Rakitic, Tudor Benetriangolo, Jonas. Hanno provato a sfondare per dieci centrali ma sono stati fermati. A spazio prova e c'è il gol, arriva con quel pareggio. La gara molto combattuta, impossibile adesso azzardare il pronostico. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa.